Magherita Ora sono tumidette Può il paradiso toccà E' fatto! E' fatto! A Tugnini! Via! Ecco qua! Hop! 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 E' il tiro! E' il te! Al sabato pomeriggio il comandante Giulio Cesare Mengozzi, dipendente comunale Ordina la donata Noi ci assembriamo sotto al cartello Vitelloni Tutti i nostri giovani Quelli che sono cresciuti nel clima Della rivoluzione, sono così Adoro il popolo La mia patria Il mondo Il ben si è libero E' la mia fe Sabato 22 settembre 1939 Anno 17esimo dell'era fascista Una grande manifestazione si è svolta nelle rive della Mena Riviera Romagnola Ecco! Fa dire allora la società Ecco! Come mi avete ridotta Avvciapciap! Avvciacca la testa! Tant'acordare nello sulla bocca Stazzetta! E' la tua buccia è la coppia e non vieni la spera Allora la rivoloste Meng! Ah Meng! Ecco! Cos'è qui? Un ente mezzo? Eh? Non avevi più usato che mezzo Amm disse scopo la sedge Stazzetta! Pagliadere! Amm vedi l'ora che la mia cilesta la vaga so Insomma Cilesta, vabbè! C'è l'ora? Ah! Ha cercava Ha voleva la cilesta Ah! Ha cercava Ha voleva Sì! Ma la casettura questa? Stai sentì vabbè Te ormai la tua posizione ti ha tassifata e sarei ora che ti pensi di andare in sua famiglia Ma io ho deciso Ad esposione Per chi mi avete preso? Per l'esattore delle tasse? Io sono l'avvocato panstavuota, dottor Ristiero, via Chiaviche 127. E comunque ha lasciato una cospicua eredità, 30 milioni di lire italiane. Che me ne importa a me se non sono bella? Tengo l'amante mio che fa il pittore. Lui mi dipingerà come una stella. Che me ne importa a me se non sono bella? La cilesta l'è tutta fatta. Va nei e poi anche tre dretti davanti al nostro palazzo. Fra poco sarai qui il dottor Ganas, il baron Gambadlena e l'avvocato. Proprio l'avvocato. Zirolu, ti dà stai attenti con la ciletta clinica. Lo rilavoro da sotto, alla pretina. Ah davvero? Davvero. Diez milioni a tutta. Stavo giusto chiedendo a vostra figlia di fare una passaggetta per le vie del corso. Contantissima. Con la toga pussona. Mamma, a me non vorrei anche do... Sgraffita, non fa la spitella. Cilestina d'or, sei già ritorna, te ci divertita? Siamo dovessi raccontare tutto quello che vi ho fatto a finire ad mattina. Sono qui per dirvi una cosa che può avere una certa importanza per me come per voi. Ma nulla di allarmante. Ma devo raccomandare, Pietro! Napoléon Palosse, Vittorio fa il cameriere. Sì, Pietro, se siamo noi qui per la famiglia, ci sentiamo che mi ha fatto un supporto della gran massa. Oggi te, Vanein? Sì, assomè. Vanein, vado la zeta, lasciate scaffare la bordella, la stabel, la stabel! La baracchino è buria, ma tu ti do! Il mondo va all'arversa, l'ampo andè affini bene. Ma non importa. Stalmami ha il botto azzotot. Basta che ha il fioli, ha il bagascio. Ora il mio fioli, ora il mio fioli, tutto mi alza da ta pulì dal carrioli. Ora il mio fioli, ora il mio fioli, tutto mi alza da ta pulì dal carrioli. A presto! 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 A presto!